Per Fiero De Rao parliamo invece dei temi che riguardano la giustizia, anche per questo insomma vi abbiamo voluto coinvolgere questa mattina perché sono tanti all'ordine del giorno. Partiamo proprio dall'abuso d'ufficio con la sua abolizione, c'è stato anche il monito europeo, ovvero è che l'Italia rispetto ad altri paesi ha già un'impalcatura importante per quello che concerne i relati contro la pubblica amministrazione. Lei sa meglio di tutti noi, l'abbiamo ribadito forse anche con lei in questo studio, che poi alla fine arrivano a condanna definitiva i casi per abuso d'ufficio soltanto in minima parte e molti amministratori anche di centrosinistra infatti non sono stati contrari alla norma che andava ad abolire poi questa fattispecie di reato. Perché non si può risolvere quello che rimane insomma al di fuori dei reati che già esistono dal punto di vista amministrativo? Perché è necessario mantenere l'abuso d'ufficio? L'abuso d'ufficio finora è stato approfondito sotto l'aspetto delle ricadute che ha nei confronti dei sindaci, ma il reato non è soltanto quello che riguarda i sindaci, il reato riguarda ogni abuso di potere ovunque avvenga, posto in essere dal pubblico ufficiale. E' il caso del soggetto che si ritiene abusato per quanto riguarda il suo accesso al servizio pubblico sanitario, di colui che partecipa ad un concorso e verifica che la commissione si muove attraverso una violazione dei principi di parità di trattamento e non rispettando le regole. E' il caso dell'esercizio della professione sanitaria, ma anche del professore universitario. Ci sono tantissimi casi nei quali l'abuso d'ufficio prova applicazione ed è l'unico strumento attraverso il quale il cittadino reagisce, mediante un esposto alla Procura della Repubblica contro ogni caso di arroganza, prepotenza, abuso di potere, senza che debba egli stesso coinvolgersi in un discorso processuale, quale anche il centrodestra indica come percorso alternativo, cioè il processo civile o il processo amministrativo, ma sono tutti motivi che richiederebbero un intervento anche economico e quindi non una difesa del cittadino. Peraltro questo reato è un reato che esiste in 25 paesi europei su 27 e che l'Europa con la Commissione europea ha proposto che venga adottato da tutti i paesi europei. Quindi diciamo che è necessario coincidere sul perimetro del reato e già nel 2020 l'Italia aveva ulteriormente ristretto i casi di applicazione considerando che potesse essere ravvisato l'abuso d'ufficio solo nel caso in cui il pubblico ufficiale violava una imposizione normativa che gli indicava un comportamento specifico e ciò lo faceva al fine di procurare un vantaggio patrimoniale a sé o ad altri. Quindi diciamo che innanzitutto non era e non è attualmente configurabile laddove il pubblico ufficiale ha la possibilità di una scelta discrezionale, laddove può scegliere fra comportamenti l'abuso d'ufficio non è configurabile. È configurabile nel solo caso in cui la norma imponga un comportamento specifico e quel comportamento non viene tenuto dal pubblico ufficiale perché deve procurare un vantaggio ad altri o a sé patrimoniale. Quindi vediamo che è veramente ristretto al massimo il perimetro di azioni. Infatti bisogna dire che penso che gli ultimi cinque governi ognuno ha apportato delle modifiche proprio per ristringere quelli che erano i margini, i confini dell'abuso d'ufficio. Quindi questo fa pensare che comunque evidentemente c'è una criticità nella norma anche perché rispetto anche a quanto lei diceva, come noi sappiamo e come abbiamo più volte ricordato, poi si arriva a condanna definitiva in pochissimi casi, molto spesso fra l'altro insieme ad altre fattispecie di reato che riguarda una pubblica amministrazione e quindi in qualche modo le tutele già esistono verrebbe da dire o no? Però voglio anche dirle che si arriva in pochissimi casi perché sono tanti invece i casi nei quali è il cittadino che ritiene di aver subito un danno di aver subito un abuso da parte del pubblico ufficiale. Quindi è il cittadino che denuncia, per cui è una forma di tutela innanzitutto dei cittadini e poi diciamo che a livello anche europeo si ritiene che questo sia effettivamente un'ipotesi specifica attraverso la quale si combatte meglio la corruzione perché è quasi un campanello d'allarme, è qualcosa che ci richiama a un'attenzione specifica su comportamenti che sono in violazione di norme precise e che evidentemente comportamenti in violazione di quelle norme devono essere stati tenuti per favorire qualcuno. È questo che si vuole evitare, il favoritismo, il vantaggio, una violazione che venga a danneggiare il cittadino. Ecco perché è importante l'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio non è tanto importante perché si accusano i sindaci. I sindaci sono soltanto una parte di coloro che esercitando una pubblica funzione possono essere sottoposti a procedimento penale per questa specifica ipotesi. Ma è una tutela amplissima nei confronti del potere che viene esercitata senza costi per il cittadino, diversamente invece da una tutela civilista e una tutela amministrativa che richiede grandi costi, impossibili a volte per il cittadino che così si espone direttamente.